Salve, come posso aiutarla? Veramente non so se può. La fidanzata di Harry è morta un anno fa, il giorno del loro matrimonio. Fermi il vulcone! Chi c'è? Fermo! È stata schiacciata da un angelo. Eh? E per quanto sia triste, ne apprezzo l'ironia. Percepisco qualcosa. È un uomo. Ha un abito blu. Mio padre indossava abiti blu. Vuole mettersi in contatto con lui? È ancora vivo. Ah. O almeno credo che lo sia. Non lo sento da ieri sera. Forse è successo qualcosa stamattina. Va bene. Non ci hai provato. Sì che ci ho provato. Ho recitato cantilene, giocato con una piuma, ascoltato un po' di Tori Amos. Questo è il diario di Kate. No, 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 no. Vada da lui e gli dica che Kate vuole che la dimentichi. Io non posso farlo. Può fare finta per salvare la vita a una persona. Ashley, vero? Pioveva quando ha conosciuto la donna che cercava di contattare? Sì. È cominciata come una piccola bugia. Perché lo fai? Sto aiutando una persona. È carino? Sta diventando una vera storia d'amore. Oh, mio Dio! Ho la sensazione che lei voglia che tu sia di nuovo felice. Ce l'ho anch'io. Sei una donna morta. Come? Non ho parlato. Ma non sarà facile passare sul corpo... Oh, mio Dio! Sei davvero un... Fantasma? Ma che meraviglia! Tieni, prendi. Scappa. Questo è quello che succede quando dici di aver parlato con la fidanzata morta di un uomo. L'ho visto migliaia di volte. Di una casalinga disperata. Tu sei morta, ma non voglio che lo frequenti. Non puoi fare proprio niente per evitarlo. Davvero? Io non dormo. Ti tormenterò ogni secondo di ogni giorno. Questa è un'emergenza! Non saprai mai se quello che senti è reale. Uscite tutti! State calmi, ragazzi! Non ascegliete! Lo stepper è libero, sai, per il tuo... Oh, santo cielo! Non farlo! Sì che la faccio. Vedrai che sarà molto imbarazzante. Oh, mio Dio! Stai bene? Sì, dicevo solo, mio Dio! Eva Longoria Parker. Via, sono sempre qui! Paul Rudd. Che cosa vuole dirmi? Lake Bell. Sono rimasta al seno nudo in una stanza piena di ragazzi per colpa tua. È un bel gesto, ma non era necessario, mia cara. Lindsay Sloan. E Jason Bix. Oh, Dio! La sposa fantasma. Dal 24 aprile al cinema. E' un bel gesto.